Rappinato un corriere a Canicattì, indagano i carabinieri. Incidente stradale a Bigini, nelle vicinanze di un centro commerciale, due feriti. Caltanissetta, balli e musica senza licenza, scatta la sanzione per il titolare di un circolo sportivo. Rissa a San Leone, nove segnalati per l'episodio risalente alla notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre. Un corriere di 37 anni è rimasto vittima di una rapina in via Pico della Mirandola a Canicattì. Il giovane, dopo aver effettuato una consegna, è stato avvicinato da due ragazzi a bordo di un ciclomotore, i quali, brandendo un coltello, lo hanno minacciato, costringendolo ad aprire i portelli del furgone utilizzato per la sua attività, facendosi consegnare un contenitore con all'interno 31 pacchi di piccole dimensioni. Il corriere, una volta che i due rapinatori si sono dileguati, ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i quali hanno raccolto la testimonianza dell'impiegato dell'azienda di trasporti, per poi avviare le ricerche dei due malviventi. Purtroppo i due autori della rapina sembravano spariti nel nulla, visto che non è stato possibile rintracciarli nell'immediato. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali filmati registrati dalle telecamere degli impianti di sorveglianza presenti in città e anche installati all'esterno di attività commerciali e altre strutture. Da capire anche se i due rapinatori cercassero proprio il contenitore rubato, effettuando quindi un colpo mirato. Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato questa mattina in contrada a Bigini, tra la zona industriale di San Cataldo e Caltanissetta, a scontrarsi un'auto e uno scooter. Le conseguenze peggiori le ha riportato un nisseno di 41 anni, che non era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e che presentava anche mancanza di sensibilità agli arti inferiori. Ha invece accusato un trauma addominale una giovane di 36 anni di origine cinese. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il titolare di un circolo di tennis e padel è stato multato dai poliziotti della divisione amministrativa della Questura per non essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza necessaria per l'organizzazione di serate ed eventi. Ed è stato anche denunciato in procura per non aver osservato le disposizioni delle autorità, visto che la Questura lo aveva già diffidato a svolgere attività imprenditoriali non autorizzate. Gli investigatori in una delle scorse serie hanno eseguito un controllo all'interno dell'attività. In quel momento era in corso di svolgimento una serata danzante con tanto di postazione per la diffusione musicale e sul posto erano presenti circa 80 persone, alcune delle quali non tesserate, nonostante l'ingresso fosse riservato ai soli soggi. I poliziotti hanno eseguito anche una serie di controlli in altre attività e secondo quanto accertato dagli investigatori si sono registrati numerosi casi di titolari di bar, ristoranti e pizzerie che per assicurarsi maggiori guadagni organizzano eventi musicali dal vivo, pubblicizzandoli sui social network senza essere in possesso della necessaria licenza di pubblica sicurezza, violando così le attuali disposizioni di legge. E anche in questi casi sono scattate le diffide. Nove giovani, sette minorenni e due maggiorenni sono stati denunciati a piede libero per la rissa che si è scatenata, probabilmente per futili motivi, all'esterno di un locale nei pressi del porticciolo di San Leone, l'ido balneare di Agrigento. A tutti i giovani è stato anche applicato il DASPO, per effetto del quale gli indagati non potranno prendere parte a manifestazioni sportive né come spettatori né tantomeno come partecipanti per un periodo compreso tra i due e i tre anni. La polizia è riuscita a ricostruire con precisione i dettagli dell'accaduto grazie alla diffusione di un video della Maxirrissa che alcune persone presenti sul posto hanno realizzato con gli smartphone per poi diffonderlo in rete, facendolo diventare virale. Dalle immagini è stato quindi possibile individuare le persone coinvolte che risultano essere senza precedenti alle spalle. Adesso si attende che la Procura Ordinaria di Agrigento e la Procura dei Minori di Palermo, competente sul territorio agrigentino per i reati riguardanti persone minorenni, chiudano le indagini. Scelte processuali diverse per i cinque tifosi dell'Acragas finiti nei guai per gli incidenti con la polizia che si scatenarono all'esterno dello stadio Esseneto di Agrigento dopo il match di Coppa Italia tra Acragas e Profavara dello scorso 28 agosto. In tre hanno infatti chiesto la messa alla prova e quindi la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per un determinato periodo, al termine del quale, qualora abbiano dato prova di un reale percorso di reinserimento, il procedimento penale verrebbe dichiarato estinto senza conseguenze sulla fedina penale. Un quarto imputato è invece chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e quindi sulla base di quanto al momento contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, mentre il quinto procederà regolarmente in ordinario con il dibattimento. I cinque tifosi sono finiti a processo per direttissima, con l'udienza che si è aperta davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano, subito dopo la convalida degli arresti. Lo scorso 28 agosto, secondo la ricostruzione investigativa, i poliziotti che svolgevano il servizio d'ordine all'esterno dello stadio vennero bersagliati dal lancio di sassi e bottiglie di vetro, mentre cercavano di impedire contatti ravvicinati tra la tifoseria agrigentina e quella favarese. Tre poliziotti rimasero feriti e nei giorni successivi vennero eseguiti sette arresti ed emanati nove d'aspo. Le prossime udienze sono fissate per il 22 e il 29 settembre. Hanno accese i motori dei mezzi, schierati tutti insieme per l'occasione e uno dopo l'altro hanno iniziato ad arare il terreno per prepararlo ad ospitare le nuove colture. I residenti di Borgopetilia si sono dati appuntamento in contrada Pescazzo per la festa dell'aratura. Un gesto simbolico che rappresenta un omaggio alla natura, al lavoro nei campi ma anche un momento di fede. Prima di procedere all'aratura infatti è stata recitata la coroncina in onore di Sant'Isidoro e sono stati benedetti gli attrezzi, i mezzi e gli strumenti di lavoro. I festeggiamenti in onore del Santissimo Cucifisso e di Sant'Isidoro ha una sua attrazione qui nel borgo ma anche la città è sensibile per questo momento così importante e nello suo tempo anche necessario di sottolineare come Papa Francesco ci permette di dare maggiore attenzione al creato. È la festa dell'aratura, la festa del creato e non è una condizione ma è una gioia immensa per poter valutare l'importanza della terra ma anche degli agricoltori che con i mezzi e con il loro sacrificio esprimono questo legame voluto appunto da Papa Francesco nel dire che ogni cosa è tutta opera di Dio e con spirito di sacrificio si possono ricevere quei frutti generosi dopo un duro lavoro e una faticosa apprezzione per poter così poi ricevere il suo frutto a suo tempo. Questa è la quarta edizione della festa dell'aratura che noi facciamo. Dico è un momento anche per ritrovarci tutti insieme, un inizio della campagna, della nuova campagna e cerchiamo di portare avanti questa bella tradizione per regruppare tutti i giovani perché oggi nell'agricoltore i giovani scappano tutti. Diamo quello stimolo di stare insieme vicini tutti. Devozione e tradizione si uniscono nel borgo durante la festa del Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro, giorni ricchi di eventi organizzati grazie all'impegno della parrocchia e del Comitato Fest Associazione Pro Borgo Petilia. Entra nel vivo già oggi con le verifiche delle vetture e l'evento di Formula E in centro a partire dalle 17 la 67esima Coppa Nissena valida per il campionato italiano di velocità montagna che quest'anno celebra il centenario della sua esistenza. Domani sono previste le ricognizioni e domenica 18 le due gare del dodicesimo e ultimo round del campionato italiano velocità montagna. La storica cronoscalata quest'anno è valida come ultimo round del campionato italiano velocità montagna, oltre che penultimo appuntamento del trofeo italiano velocità montagna, prova del campionato italiano le bicilindriche, ottava e penultima sfida del campionato italiano velocità salita autostoriche e penultima del campionato siciliano salita per automoderne storiche. A illustrare il programma degli eventi sono stati tra gli altri il presidente dell'automobile club Caltanissetta Carlo Alessi, il presidente del comitato organizzatore Vincenzo Calandriccio, il fiduciario AC Sport per la provincia nissena Maurizio Giugno e il direttore di gara internazionale Marco Cascino. Per la gara di Formula E prevista per le 17 di oggi in centro si potranno iscrivere concorrenti dei 14 anni in poi e sfidarsi al cospetto del campione italiano 2022 i Racing Simone Marcenò. Previsto anche un montepremio. Il presidente dell'ACI Carlo Alessi ha sottolineato l'importanza dell'interazione con tutte le figure del territorio, da quello cittadino a quello provinciale e regionale, inoltre la proficua collaborazione con la delegazione AC Sport Sicilia e il supporto del delegato fiduciario Daniele VII. L'avvocato Alessi ha poi evidenziato il lavoro dell'intero staff che ha reso possibile tra le altre cose la proficua promozione dell'evento al Gran Premio d'Italia, in un vasto ed attrezzato stand presso l'autodomo nazionale di Monza, storica struttura con cui la Coppa Nissena condivide il centenario. Proprio il presidente della società incremento automobilistico e sport Giuseppe Redaelli sarà presente a sua volta in città per la Coppa Nissena. L'attesa è finita, il girone I di Serie D al via da domenica con tutte le partite in programma alle ore 15. Per la San Cataldese un incontro ampiamente alla portata. Al Mazzola arriva il Sant'Agata, squadra che punta alla salvezza, ma da non sottovalutare. Per l'undici di Matteo Vullo, la concreta opportunità di brindare ai primi tre punti della stagione in un campionato tra i più prestigiosi degli ultimi anni. Parla Claudio Calafiore, centrocampista del Sant'Agata, sulla pagina Facebook del club messinese. Siamo a incontrare la San Cataldese che credo lotti per il nostro stesso obiettivo, cioè la salvezza. Siamo a incontrare una squadra molto ostica, composta da gente di esperienza, gente forte per questa categoria e quindi, ripeto, la prepareremo al meglio. La partita di cartello è comunque quella di Ragusa, dove la squadra di casa dovrà vedersela con la corazzata Catania. Gara senza storia sulla carta, con gli Etnei lanciati verso il primo successo della stagione dopo la bruciante eliminazione della Coppa Italia ad opera della San Cataldese. Insidiosa trasferta del Canicattì sul campo della Mezzia, squadra attrezzata per stare nei quartieri più nobili della graduatoria. Le altre gare in programma Acireale-Cittanova, Trapani-Mariglianese, Licata-Castrovillari, Santa Maria-Cilento-Locri, Realla-Versa-Paternò, San Luca-Vibonese. Due partite che riportano alla memoria sfide memorabili, Acragas-Nissa e Gela-Enna, entrambe in programma domenica per la terza giornata del campionato di eccellenza. Sul derby tra Acragas e Nissa si è già detto tanto, adesso si attende il risponso del campo. Non si preannuncia certamente un impegno agevole, né per la squadra grigentina, con un tasso tecnico di categoria superiore e chiamata a dare continuità alle due vittorie conseguite finora, né per quella Nissena, allestita per giocarsela con tutte le avversarie, ma ancora in pieno rodaggio. Stesso discorso per il Gela, che insegue la prima affermazione stagionale dopo due sconfitte di fila e che tra le mura amiche affronta un'enna in grado di poter assumere il ruolo di sorpresa del Girone. Le altre partite in programma, Parmonval-Mazzara, Cus-Palermo-Sciacca, Castellammare-Don Carlo-Misilmeri, Oratorio-Sanciro e Giorgio-Casteldaccia, Profavara-Leonfortese, Mazzarese-Resuttana-San Lorenzo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'Italia sarà ancora esposta a un flusso di correnti umide atlantiche che interessano soprattutto il centro-sud, con nuove piogge, specie sul basso versante tirrenico, ma nel frattempo dal nord Europa tenderà ad avvicinarsi una massa d'aria più fredda sul nord-est che porterà un peggioramento a fine giornata. Vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra una frequente nuvolosità attesa proprio al centro-sud, qui con anche qualche acquazzone a sfondo temporalesco, ma poi dal nord Europa, come dicevo, si avvicinerà a un peggioramento che coinvolgerà il nord-est sul finire del giorno. Vediamo nel dettaglio anche lo zoom delle precipitazioni, infatti i fenomeni sono attesi in particolare sulla Campania, ma poi anche sul Molise, la Basilicata, la Puglia. Nel frattempo però andrà peggiorando anche sul Triveneto in serata. Più nel dettaglio quindi il tempo atteso sul nostro paese, la giornata sarà discreta, in particolare al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sulle isole maggiori, mentre sul basso Lazio e la Campania ci sarà il rischio per nuove acquazioni anche a sfondo temporalesco, occasionalmente anche intensi, ma sul finire del giorno sarà sul Triveneto che andrà peggiorando sensibilmente per l'arrivo di quest'aria più fredda che innescherà acquazioni temporali anche di forte intensità che dai settori dolomitici si muoveranno sulle pianure. Temperature ancora elevate su tutta Italia, ma tenderanno a scendere nel weekend. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.